Benvenuti, bentornati sul mio canale per un nuovo video a tema Scream. Dopo la classifica dei film della saga dal peggiore al migliore, che vi esorto a recuperare nel caso non l'aveste fatto? Oggi giocheremo con la classifica delle scene d'apertura del franchise, sempre dalla peggiore fino ad arrivare alla migliore, con la consapevolezza che anche quella che si posizionerà ultima sarà comunque validissima. Lo sapete, io amo Scream in toto, ma è un gioco e bisogna fare dei sacrifici. All'inizio del 2023 avevo già registrato questa classifica, ma senza tenere in considerazione Scream 6, oggi presentissimo. Vi allego qua sopra nelle schede il link del video così potreste andare a vedere come la pensavo per poi constatare se oggi abbia cambiato idea oppure no. Vi aspetto. Direi che possiamo iniziare. Al sesto posto metto Scream 3, ok, è capitato ultimo un'altra volta, seppur sia un bellissimo film. L'inizio riesce ogni volta a farmi male perché mi dispiace che muoia Cotton Weary, ricordiamo per scelta dello stesso attore. Quando arriva a casa con la sua compagna nascosta e con un Ghostface che sa imitare le voci, quella cosa non è stata mai portata avanti poi. Lui tutto vestito di bianco, elegante, poi quel sangue che si cosparge sul tessuto. Ghostface feroce che vuole sapere dove si nasconda Sidney Prescott. Un inizio sicuramente accattivante, anche capace di sorprendere e di far restare male tutti coloro che amavano, come me, Cotton Weary. Però messo a paragone con gli altri prologhi dei film di cui parleremo, è forse il minore. Forse, poi chissà che in futuro non cambi idea. Passiamo alla quinta posizione. Scream 4. Lo so, per tanti quell'inizio è uno dei migliori e riconosco che sia geniale, però è veramente difficile per me adesso riuscire a inserire in classifica i film perché tutti gli inizi delle pellicole restanti li trovo ottimi. In questo caso, beh, pensare che Wes Craven critichi l'eccessiva ridondanza nel fare continui seguiti in un seguito barra remake del primo, come in Scream 2 si criticava o comunque si analizzava la tendenza a fare un sequel di un film di successo, qua si parla dei numerosi sequel che sono stati realizzati nella serie di Stub ed effettivamente quando capiamo di trovarsi in un film nel film e poi ancora in un film nel film nel film è tutto geniale, metacinematografico, incredibile, bellissimo. Però ragazzi cosa vi posso dire? Per quanto sia un inizio folgorante, per quanto mi diverta come un matto e per quanto mi venga la voglia di recuperare gli Stub, secondo me gli Stub sono delle pellicole ai limiti del mediocre se non del brutto, come potrebbero essere oggi come li ho rivisti da poco i film della saga di venerdì 13, ecco per dirvi. Però Scream gioca tutto su un altro livello, in un altro campionato, però Scream 4 per quanto abbia un inizio meraviglioso io lo inserisco dignitosamente al quinto posto. Siamo arrivati alla quarta posizione, Scream 2. Vedete, nella classifica dei film dal peggiore al migliore avevo messo Scream 2 secondo, eppure se dovessi basarmi esclusivamente sulla scena di apertura, Scream 2 si becca la quarta posizione, eppure ha un inizio fantastico, cioè Maureen Evans e Phil Stevens che vanno al cinema per vedere il film. Stub, la prima volta che vediamo Stub in Scream, la prima volta che vediamo il rifacimento di quel che abbiamo visto nel film precedente, tratto dal libro di Gail Weathers, solamente nel quarto poi scopriremo che la regia sia del grande Robert Rodriguez, e quell'inizio parodizzato anche in Scary Movie, la ragazza che voleva vedere il film con Sandra Bullock, il cinema invaso da ragazzi vestiti da Ghostface, è il mio sogno andare in una sala a vedere Scream tutti travestiti da Ghostface, sì, io potrei anche farlo avendo il costume, ma forse sarei l'unico, invece lì ti regalano il costume quando in realtà magari te lo regalassero, te lo regalano, è perfetto, è bello perché si esce dalla sala a film iniziato per andare a comprare i popcorn, per andare in bagno, proprio come se il cinema fosse una cosa usa e getta, cioè metaforicamente Wes Craven comunica tanto anche parlando della disattenzione del pubblico che va in sala tanto per, cioè comunque con i biglietti gratis fra l'altro, quindi Scream 2 si becca una meritatissima quarta posizione con Maureen Evans che viene uccisa in quel modo in sala e il povero Phil Stevens trafitto dal coltello nell'orecchio in bagno e Ghostface che torna in sala con la giacca di Phil Stevens, vabbè, meraviglioso, meraviglioso. Terzo posto, siamo arrivati al podio, siamo arrivati al podio, medaglia di bronzo, squillino le trombe, trombino le squillo, Scream 6. Il mio amato Scream 6 dei Radio Silence si colloca in terza posizione perché secondo me ha un prologo fra i più belli di tutta la saga. Se la gioca anche qua con il quinto che riesce a scalzarlo un'altra volta e a piazzarsi, non vi dico dove, ma il sesto film, almeno oggi, poi in futuro potrei cambiare idea perché il sesto si sta arrampicando e sta riuscendo, eh, pian piano a superare il quinto. Però oggi lo voglio mettere terzo con la bellissima Samara Weaving che viene uccisa nel vicolo e per la prima volta vediamo un Ghostface che si toglie la maschera. È Jason, Tony Revolori, che poi ai fini della trama non sarà importante perché morirà poco dopo. Ma se io dovessi pensare Ghostface che uccide Jason, che intanto sta guardando Incubo a Manhattan, quindi il capitolo 8 di venerdì 13, se penso a Greg nel frigorifero, ma se penso per di più a quella frase che è proprio per quella frase che dico che il sesto se la stia giocando tantissimo non solo con il quinto ma anche con il primo. Chi se ne frega dei film? Mamma mia, che meraviglia! Però oggi, visto che ci sarà ancora tempo per cambiare idea, per riaggiornare questa classifica ulteriormente, voglio mettere Scream 6 terzo. Seconda posizione? Beh, Scream 5. Io da quando vidi in sala il quinto capitolo dei Radio Silence restai sorpreso per come Matt Bettinelli-Holfin e Tyler Gillett, accompagnati anche dagli sceneggiatori ci mancherebbe, fossero riusciti a ricreare proprio quell'atmosfera craveniana nel migliore dei modi. La prima volta che vediamo Tara, ma soprattutto la prima volta che vediamo un personaggio nella scena di apertura che sopravvive. La prima volta che Ghostface non la uccide, seppur non la uccida volontariamente, perché rivedendo il film si capisce che per Ghostface fosse importante che Tara arrivasse fino all'epilogo del film, quindi doveva esserci l'attacco per poi far tornare Sam a Woodsboro. Insomma, comunque, l'inizio di Scream 5 con quel Tara, quando Carlo Valli dice Tara, mi si rizzano 12 piselli. È una cosa meravigliosa. È violentissimo il coltello che le trafigge la mano. È un inizio dove si parla anche di cinema diverso rispetto al solito commerciale. Babadook, per quanto dica il Babadook, con quell'articolo che mi fa venire il nervoso. Ma l'inizio è fantastico, perché oggi i giovani non hanno più voglia della commercialata, non hanno più voglia del cinema semplice, hanno bisogno del cinema autoriale. E si deve citare Babadook. Scream 5, seconda posizione. Ed è difficile toglierlo da lì, ma quel capolavoro di Scream del 96 continua a vincere. Cioè, cosa dobbiamo dire alla scena iniziale di quel grandissimo film che è Scream? Casey Baker, Drew Barrymore, i quiz. Qual è il tuo film horror preferito? Se riattacchi ti sbudello come un branzino. I popcorn che salgono. Casey Baker che parla di Nightmare e che dice che valga solo il primo. Ti guardi un film horror con quella televisione, con quello schermo celeste e scuro. Cioè, ma cosa vogliamo? Cosa vogliamo di più? L'inseguimento fra Ghostface e Casey Baker. Steve Hort legato e che vediamo già in controluce se facciamo attenzione sulla sedia. I genitori che rientrano e intanto la figlia viene squartata e appesa all'albero. Prendi la macchina e vai dai McKenzie, quell'inizio ragazzi. La maschera che viene tolta a Ghostface. Una maschera che poi non è la stessa utilizzata nel restante minutaggio del film perché inizialmente non avevano ancora i diritti per la maschera che poi abbiamo visto in tutti gli altri film che comunque subisce delle modifiche. Ad esempio per il mio costume ho la maschera che si basa sul modello che va dal terzo al sesto film. All'inizio ce n'è proprio un'altra che è quella che preferisco di meno. Poi già dopo la scena di Casey Baker diventa straordinaria anche se la mia preferita è quella di Scream 2. Quindi ragazzi questa è la mia classifica aggiornata delle scene d'apertura dei film della saga di Scream. Vi chiedo qua sotto nei commenti di farmi assolutamente sapere la vostra. Se foste d'accordo o in disaccordo con me scrivete la vostra classifica, scrivetela perché io ho bisogno di leggervi e di confrontarmi insieme a voi. Vi ricordo che nelle info trovereste tutti i link per seguirmi sulle mie pagine social, per abbonarvi al canale e che se vi abbonaste ricevereste in cambio tanti contenuti extra oltre alla normale programmazione quotidiana. Un caro saluto e noi ci vediamo al prossimo video sempre riguardante Scream.